nooo ok non mi aveva dato il fuciletto e come sempre la prima va così prima è così dov'è c'è? oh marda oh marda oh cazzo ma dai che schifo t'ho preso in pieno vergogna ok 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 è lì eh crediamine qui tipo che ci sono entrato una volta da quanto è il gioco dentro sta casa c'è il colpo che rompe il vetro è tipo antiproiettile che cazzo che storia merdosa madonna ah un altro ho detto che cazzo un bot c'è la gente che gioca senza cuffie comunque santo ne passi dalle quale ahhh mi è scappato come un vermicello ehi 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 ci sei? io il dopo ce l'ho ce l'hai? vai a tutta trovo il nome eccolo qua c'è se l'ho io ci ho spaccato un cazzo di deathmatch mo Italia 41-24 ma li ho proprio umiliati nelle viette col fucile da cecchino ma come funziona? se tu usci in testa a uccidire un colpo? beh in un colpo di fucile d'assalto si di anche di cecchino il più leggero di tutti in testa li fai con un colpo però io uso il cecchino quello pesante e monocolpo a ricarica uso quello mi ci diverto troppo c'ha vedrò come è fatto mi ci diverto veramente troppo che video non ho mai della maglia ma che cavolo oh mamma mia mamma mia se li polverizzo mamma mia se li polverizzo li umilio dai venite ancora da la dai su quello ancora si stanca ci prova sempre a farmi non ha capito che ha a che fare con il best sniper qui jesus ho finito i colpi mi è rimasto un colpo devo ricaricare oh ecco qua qua ci sono i suoni? si ok di qua di qua opzioni con tastiera mouse sensibilità dovrò provare inventario i cammina shift salta space dude nice shot ah la corsa non c'è no non si corre qua ci si abbassa e si cammina soltanto puoi rallentare no vabbè vabbè ricarica r che fio uuuu ma ha fatto eh vabbè don john usa i trucchi don john imbroglia come ha fatto come ha fatto ad shottarci così aiuto aiutami a aiuto una svaria di cose inventario una svaria quando inizia il game premi b scegli le armi premendo b e niente non posso sceglierlo prima? no quando inizia la partita perchè poi nelle classificate nelle leggere ogni round con i soldi che hai guadagnato nel round precedente ti compri le armi ok invece in deathmatch le armi te le puoi comprare sbafo eh in tipo nella modalità competitiva tu ogni round uccidendo gente e facendo cose guadagni i soldi e il round dopo ti ci compri le armi mentre in deathmatch ti puoi comprare ogni volta le armi che cazzo ti pare perchè non ci stanno i soldi oh sto tizio stava inseguendo un altro terroristi terroristi posso scegliere ah bot 4 i terrori principalmente la cosa è che i terroristi hanno la k e i militari hanno la m4 comunque due colpi in testa c'era c'era teda teda cioè questi ancora non si stufano a farsi umiliare e sodomizzare pesantemente da me dentro questa specie di canalina che vuole l'arma bonus più 6 punti ma sto giocando contro i bot dai esci fuori li ammucchio proprio i cadaveri li ammucchio che sto pronti a dargli fuoco e a bruciarli tutti insieme la vita non si ricarica vero? no lì mi sa che non ci verranno mai più per tutta la loro vita oh ma ho ucciso da dietro solo da là mi poteva prendere mamma mia proprio proprio l'umiliazione la sodomizzazione ci ha provato ci ha provato ma io ti uccido tu responi a favore e io ti riuscido e io ti riuscido ancora e ancora ogni volta che proverai a venirmi ad ammazzare mi cambia l'arma ogni poco con 1, 2, 3 cambia l'arma e ruotando no ma mi cambia l'arma da solo per i fatti suoi oh dietro cioè ogni volta che voglio mi cambia l'arma oh no è di là my bad no 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 non dovrebbe eh sì c'era armi armi casuale attivate no die ah sì sì devi togliere sì beh non c'ho capito nulla ah vabbè ma la prima partita è sempre un po' così comunque è una cazzata compri le armi con B e 1, 2, 3 e le sostituisci cioè te le switchi in mano ah mi si è incastrato il mignolo mi si è accavallata la cartilagine che male che ho comprato ma che mi ha ucciso ma perché io intimo a cambiare armi? f13 armi casuale guarda disattivata qua stai t'ho visto 1 non riesco a mirare eh aggiustati la sensibilità io sto gioco cioè sto gioco è proprio il cecchino non trema cioè sto gioco spacca non riesco a essere preciso mamma mia 40-14 li ho proprio dominati nella loro anima proprio nel come si dice nel nella coscienza non si potranno andare a dormire facilmente I B E L E A A B A B A A B A A B A A B A A B A A B